un cordiale saluto a tutti voi ben ritrovati oggi è l'11 febbraio 11 febbraio 2015 sono le 7.30 in diretta perché ci segue ovviamente nella prima edizione buongiorno anche qui ci segue invece in replica le 9.10 alle 13.30 dicevo in diretta per i giornali tra poco le leggeremo prima il santo del giorno oggi la chiesa ricorda la beata vergine maria di l'urde l'urde meta conosciutissima di pellegrinaggio ogni anno 5 milioni di persone visitano questo posto il sole sotto alle 7.12 tramonta alle 17.32 il tempo previsto per oggi la giornata si prevede con cielo sereno fa freddo sono due gradi vediamo le previsioni per oggi oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso venti di brezza leggera il temperatura in lieve aumento dalla serata attenzione alle foschie e banchi di nebbia per domani giovedì 12 di febbraio inizialmente nuvoloso per nuvole basse sulla fascia collinare costiera in parziale dissolvimento poi nel corso della giornata sereno nelle zone alto collinare montane le temperature sono stazionari eventi deboli di brezza leggera il mare sarà quasi calmo per venerdì 13 di febbraio ancora dalla serata foschie banchi di nebbia nei fondo valle nelle zone pioneggianti per il resto non c'è granché da segnalare se non cielo parzialmente nuvoloso per nuvole basse per il fine settimana ci sarà tempo un po nuvoloso con nuvole medio alte ma senza fenomeni associati e temperature in lieve aumento ieri la nostra provincia è finita su tutti i telegiornali nazionali e non solo perché perché a un certo punto alle 11 11 mezzogiorno insomma al mattino in procura il procuratore capo manfredi palumbo ha presentato la stampa è dato la stampa la notizia del ritrovamento di un dipinto un'opera straordinaria che avrebbe un valore inestimabile si parla però di 120 milioni di euro e sarebbe attribuibile insomma a niente meno che a leonardo e allora che cosa scrivono i giornali questa mattina scrivono ovviamente di questo ritrovamento di questo dipinto ricostruiscono ricostruiscono le varie tappe anche se ancora c'è molto da capire ma andiamo con ordine vediamo senza svelare troppo perché ovviamente nei giornali dove c'è scritto ci sono scritte come giustamente avviene perché i giornali la televisione la notizia la fa vedere la radio la dà internet la dà ma i giornali la notizia la spiegano e questo è il bello ancora dei quotidiani e spero che restino così per per sempre il mandato per il grande affare vendesi dipinto da 120 milioni la polfer di como segnalò un avvocato con una strana lettera durante un controllo gli agenti della polfer appunto hanno hanno visto che questo mandato che questo avvocato un avvocato aveva con sé una lettera dove c'era scritto che una famiglia dava mandato a questo avvocato di vendere questo dipinto per tutti questi soldi la polfer di como 70 le persone indagate tra cui l'avvocato sergio sciavo i reati truffa delle assicurazioni e l'esportazione illegale di opere d'arte si tratta di un olio su tela delle dal dimensione di 61 centimetri per 46 risalente ai primi del sedicesimo secolo e raffigura isabella d'este un esperto come carlo pedretti un esperto di leonardo lo ritiene assolutamente autentico ma la stessa procura non cede all'euforia e a smorzare un po la festa c'è vittorio sgarbi noto critico d'arte che è più scettico dice vale 2000 euro è una crosta opere simili si possono trovare a porta portese roma sempre sul sul resto del carlino la pagina 4 pagina 4 la vedova illegale il capolavoro questo quadro è di famiglia la donna dice lo aveva mia nonna era in svizzera perché lei viveva là allora tutto comincia con un caso abbiamo detto l'avvocato fanese sergio sciavo o savo insomma 50 anni molto conosciuto nell'ambito dell'infortunistica stradale il 27 agosto 2013 decide di andare in treno a lugano poco prima del confine la polfer lo sottopone a un controllo spunta appunto questa lettera dove dentro c'è scritto domandato l'avvocato di trattare la vendita del dipinto ritratto eccetera eccetera valore 120 mila 120 milioni di euro insomma poi ci sono tutti i particolari che potrete leggere acquistando il quotidiano sulla pagina di fano del resto del carlino invece le foibe le foibe ieri giornata del ricordo nessuno se n'è accorto in realtà perché in effetti è una giornata di serie b adesso qualcuno si è alzato giustamente lo sta dicendo qualcuno tra i denti altri invece in maniera più decisa le foibe tra i geni di serie b scrive il resto del carlino scoppia il caso durante il consiglio monotematico un professore dolorivetti dice non una parola decisa contro l'ecidio mentre a fano si sono prodigati hanno fatto eventi di ogni genere per la giornata della Shoah per per quella del ricordo invece sì un bel incontro anche importante con un intervento di uno storico di tutto rispetto però insomma poi a un certo punto qualcuno si è alzato in piedi dicendo ma scusate io non ho sentito nessuno non una parola decisa contro l'ecidio insomma come dire lo dobbiamo fare perché lo dobbiamo fare però insomma che passi alla svelta questa giornata perché un po ecco anche l'ex sindaco guzzi ha preso la parola so di alcune scuole se fosse vera una vergogna ma comunque so di alcune scuole che hanno disertato l'appuntamento di oggi bisognerebbe dire chi sono queste scuole che hanno disertato e chiedere al preside perché o alla preside perché hanno disertato evidentemente hanno avuto degli impegni gli italiani uccisi dal fascismo sono di serie a mentre quelli ammazzati dai comunisti sono di serie b dice l'ex sindaco di fano ed ex comunista stefano guzzi settimana molto grassa invece si parla di carnevale sulla pagina 21 del resto del carlino settimana molto grassa ecco tutti gli appuntamenti spettacolo all'aperto in piazza poi anche a teatro laboratori creativi e tanti intrattenimenti per bambini coi personaggi di pinocchio dobbiamo dire anche che a fano c'è l'assessore alla memoria quindi insomma non ce l'hanno mica tutti nulla contro mascherini per carità di dio ci mancherebbe anzi lui ha fatto il suo intervento però strade abbandonate qui si rischia grosso brutta avventura per un gruppo di cittadini lastre di ghiaccio pericolosissime pullman perde il controllo a sant'angelo invado scivolando le auto scivolano impazzite serve sale nella carreggiata e qui vedete l'immagine di questo autobus di questo autobus finito fuori strada ancora dal resto del carlino la l'esondazione l'esondazione del foglia tre giorni di battaglia contro l'acqua una strage di animali attrezzature capagni ancora sommersi non c'è stato scampo per tutte le bestiole nelle gabbie una capretta sul tetto gli uccelli stecchiti sui trespoli i cani nei recinti foglia largine sbriciolato solo ghiaia sotto il ponte andiamo sulla pagina di fano del corriere adriatico allora tre terzo stralcio del restauro di san pietro in valle messi a disposizione 76 mila euro per consolidare i pavimenti e ripristinare tutte le decorazioni arpam nessun campionamento sulla piscina benini controlli solo per aria e palestra ma la comunicazione non è stata tempestiva e gli spazi d'acqua sono stati subito ripuliti accuratamente tutte le porte della palestra sono state sigillate fanurbino fanurbino dal consiglio regionale l'ok alla revoca delle dismissioni approvata la mozione soddisfatti i ferrovieri associazioni e politici non so quanto varrà questa mozione ma insomma murale su un concorso lanciato da arci artigiana il miglior bozzetto diventerà un dipinto un grasso carnevale di appuntamenti l'altra pagina del corriere adriatico una settimana densa di eventi e spettacoli previsto anche l'arrivo di centinaia di sportivi esso esodo e foibe storici a confronto davanti agli studenti la seduta speciale del consiglio comunale ha offerto un significativo dibattito tra gli esperti l'invito di serie a cercare la verità anche quando è scomoda poi macchinette rotte che si mangiano i soldi si tratta di macchinette presumo che siano che sono dentro dentro il comune dentro l'ufficio gli uffici del comune anche gli albergatori contano i danni molte le strutture colpite dalla fortunale serie entro il 13 febbraio le denunce delle attività economiche non possiamo più aspettare invece l'altra notizia che arriva da marotta da marotta che ha avuto come tutti gli altri danni al litorale da cartoceto invece una clamorosa ingiustizia ci difenderemo cartoceto non è più classificato comune montano l'amministrazione prepara il ricorso il vice sindaco come se non bastasse è stato utilizzato anche il criterio illegittimo della retroattività stiamo parlando dei criteri per poi far pagare l'imu sui terreni agricoli cartoceto non è più esente come lo era fino al 2013 chiudiamo con la pagina le pagine del messaggero in apertura da fano a lugano il giallo del leonardo sequestrato in un cavo di una banca il dipinto di isabella d'este stava per essere venduto a 120 milioni indagato un legale fanese per esportazione illecita di opere d'arte l'inchiesta nata da truffe ad assicurazioni ed eccolo qui il dipinto di isabella d'este attribuito appunto a leonardo recuperato in un cavo di una banca svizzera poi ancora banca marche prende forma il salvataggio credito ma le fondazioni restano in attesa il presidente gazzani nessuno ci ha informato e il lisippo un'altra di quelle opere straordinarie che il mondo visita al museo di malibu ha solo che anche lì c'è questa disputa dovrebbe ritornare in italia forse a fano ma chi lo sa il conto comunque il lisippo conteso approda alla consulta poi consiglio in prefettura il ricordo delle foibe il sindaco ricci parla di tragedia oscurata da scontri ideologici riconoscimento alla memoria del caduto igino sersanti ancora chiudiamo con la pagina di fanno del messaggero versate sostanze inquinanti nel canale albani l'emergenza ambientale è scattata l'altra sera quando è stata segnalata una vasta macchia oleosa adesso bisogna capire intanto che cosa è finito che prodotto è quello finito versato nel canale albani cercare di risalire all'azienda che produce questo tipo di di cosa e poi insomma capire se questo gesto è stato fatto per liberarsi semplicemente di questa sostanza oppure per colpire gli animali perché voi sapete sono tanti forse cominciano a essere troppi ma comunque ce ne sono tanti lungo il canale albani e qualcuno potrebbero dare fastidio e quindi chi lo sa fratelli lungarini è finito un incubo accusati di truffa e turbativa d'asta sono stati assolti amianto ladini salvalai intervento in due fasi poi sotto inaugura la rinnovata sala del consiglio comunale oggi pomeriggio alle 5 in municipio ci sarà l'inaugurazione della rinnovata sala consigliare dove sono stati eseguiti una serie di lavori per attivare lo streaming live per le riprese audio video dei lavori consigliari e poi è stato attivato anche un nuovo modo metodo di votazione elettronica e insomma poi questo ci voleva ormai da un po di tempo e per fortuna oggi si inaugura mareggiata corsa alla richiesta danni entro venerdì va presentato l'elenco in comune sciacalli in azione nelle zone devastate di Baia Metauro e di Sassonia rubati elettrodomestici dopo l'allagamento chiudiamo con la pagina giorno e notte dove si parla del carnevale più pazzo che sceglie il suo sindaco ovviamente il carnevale Colodifano tutto pronto per un giovedì grasso che farà di piazza 20 settembre il fulcro del divertimento ed è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa noi ci rivediamo domani mattina alle 7 e 30 stasera invece occhio alla notizia per tutte le altre notizie nel corso della giornata vi ricordo che c'è la nostra nuova applicazione l'app di occhio alla notizia scaricabile su google play quindi solo per i cellulari android per il momento con gli iphone e per gli iphone ci stiamo lavorando e poi il nostro portale occhionanotizia.it buona giornata a tutti voi arrivederci